Ciao a tutti bella raga, oggi vi faremo vedere un nuovo video, siamo qui su, si su, a giocare a calcio Allora, giocheremo, facciamo una vigore challenge, però non stiamo qui Poi tirare le bombe e ci facciamo, qua, quindi tirando lì Oggi ci sono anche io che sono un suo amico Lui, aspettate che lo giro io Lui è un 2009 Ciao raga E io un 2011 Tutte e due portieri e iniziamo Ok Ok, ora vado io 3 rigore a testa Ok Uno fuori Sono andata un po' male BOOM Palo goal Bellissimo Mi deve uscire Bel goal Ok Quindi un goal fatto Ok Ok Quindi Ne ha fatti tre su due Il metodo verbi cos'è Ok Ora tocca a me Lui mi ha fatto un goal Veramente bello Speriamo almeno di pareggiare Ora guardiamo Vai Vai Bella Secondo rigore Bella Speriamo che non lo faccia Guardiamo un po' l'ultimo rigore Come va Ho vinto io Uno a zero Ok quindi Ora facciamo il secondo round Va bene Ora nel secondo ne facciamo due Poi chiudiamo il video Facciamo da vicino ora Sì ora da vicino Aspetta che Metto la telecamera un po' più vicina Ok qua Perfetto Inizio io o inizio te? Inizio io un po' Deve raccicolta Va bene Vai Ora tireremo da più vicino Andiamo Sì Prima o parato No Traversa Che traversa Cavolo Questa era Facceva in Bragos Entrava Quindi centrale Ultimo E anche non lo faccio Giù Andiamo Quindi abbiamo vinto una sfida per uno Sì Una sfida per uno Quindi Se facciamo C'è Allora Ora Finiamo il video Lasciate un bel like Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale E ciao